Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione, come ogni mattina spazio alle prime pagine e poi soprattutto ai quotidiani di casa nostra per vedere le notizie principali di questo mercoledì 20 dicembre, ci avviciniamo a rapidi passi al Natale, mancano 5 giorni, cominciamo come di consueto in questa prima parte con le prime pagine per poi entrare all'interno dei quotidiani per vedere cronaca politica e sport, insomma tutto quanto trovate sui fogli di oggi, cominciamo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro partendo con l'edizione la vedete di Pescara, vediamo il titolo quale è, Naia di rilancio con gli ex campioni, Pescara, Estiarte e Pomiglio saranno tra i promotori del piano di riqualificazione delle Naia di in alto, rimaniamo sempre a casa nostra perché ci sono due notizie, una che riguarda la sicurezza delle scuole perché sono in arrivo nuovi fondi per 75 istituti abruzzesi, ma ieri era la penultima giornata degli interrogatori per il processo di Rigopiano, i dirigenti che dicono in coro, di fatto le decisioni toccavano ai politici, scendiamo in pagina, la fotonotizia rimanendo sempre a Pescara, circolo canottieri, arrivano i soldi dal Ministero di Spalla, all'interno questioni che sono anche di carattere nazionale che poi troveremo sulle prime pagine dei nazionali per il caso Banca e Visco scagiona la Boschi, Renzi dice non gli risposi, in basso nuovo partito centrodestra nasce, noi con l'Italia tra i promotori come possiamo leggere anche il deputato abruzzese Giulio Cesare Sottanelli. Ma siamo sull'edizione di Pescara, allora entriamo nelle cronache, una brutta notizia, attiva, morto Ferrone, il leader dei precari, solo 52 anni per Mario Ferrone che vedete in foto. Scuola, settimana corta, al classico protestano sia i genitori che gli studenti, in basso per lo sport il Pescara che domani sera sarà di scena ad Ascoli ma perde Fornasier e Zampano, insomma non proprio un momento nemmeno particolarmente fortunato per i bianco-azzurri. Sotto la fotonotizia una questione che riguarda l'Aquila a bilancio, blackout blocca il Consiglio regionale e a Pescara per la politica in 400 alla festa organizzata da Nazario Pagano. Cambiamo edizione, andiamo su quella aquilana, sull'edizione aquilana che cambia ovviamente il titolo perché insomma oggi per l'Aquila è una bella giornata perché riapre la Basilica di Collemaggio, oggi cerimonia con il ministro Franceschini, torna anche Celestino Quinto. Però come vediamo a centropagina il Munda, il museo d'Abruzzo dell'Aquila è senza soldi e rischia di chiudere. Chissà che il ministro Franceschini che qui vedete raffigurato magari non possa gettarci anche uno sguardo nella visita alla riapertura della Basilica di Collemaggio. Insomma staremo a vedere. Nelle cronache l'ex senatore di Capistrello Luigi Lusi confermati sette anni e allora deve tornare in carcere. Sul Mona, Fabrizia, ricorderete Fabrizia Di Lorenzo, vittima dell'attentato terroristico di Berlino, un anno dopo la città di Sul Mona unita nel ricordo della ragazza. Arrivi Sondoli invece il sindaco Ciampaglia, indagato per la costruzione del nuovo hotel. L'edizione di Teramo, l'apertura aiuti negati a 70 famiglie sfollate, cambiano residenze e la burocrazia, revoca loro il contributo. Ieri poi proprio a Teramo era la festa di San Berardo, la festa del patrono, fiera di San Berardo, la folla invade il centro storico di Teramo. Nelle cronache Lolli assicura Salpa investirà a Roseto, fugati i timori sulla azienda. Questo in foto è proprio Giovanni Lolli, vicepresidente della regione. Controlli in ass nel Teramano, ricovero per anziani, denunciato il gestore. In Val Vibrata ci spostiamo a nord dunque, Tortoreto, il sindaco conferma l'ammanco in comune. Chiudiamo le quattro edizioni con quella che riguarda Chieti, Lanciano e Vasto, ovvero l'area teatina. A rischio crollo un albero su cinque. Emergenza Chieti, via i controlli dopo la strage di piante per il vento che ha soffiato forte negli scorsi giorni. Dunque è una vera e emergenza anche pericolosa. La fotonotizia, salvataggio nel sottopasso, arrivano i premi premiati, leggiamo, i 19 rappresentanti delle forze dell'ordine. La cerimonia di consegna delle benemerenze svolta ieri. Massimo riconoscimento al vigile del fuoco Claudio Minnucci, poliziotti Pirani e Ciancio per il salvataggio di quattro persone in un sottopasso allagato. Andiamo nelle cronache e ci spostiamo a Lanciano, cancellati dalla costa tra vecchi depuratori. Scendiamo a San Salvo, false residenze. Il blitz fa scoprire delle ville abusive a Lanciano. Nonna Maria, 108 anni, senza prendere, pensate un po', medicine, beata lei, insomma, complimenti, complimenti davvero. Cambiamo quotidiano, andiamo sul messaggero. L'apertura è dedicata al Rigopiano e al processo che riguarda le vittime di Rigopiano. Colpevoli silenzi, questo è il titolo del messaggero. Il funzionario regionale Belmaggio, volevo la mappa valanghe, nessuno mi rispose. L'ex sindaco De Vico, accusa la gestione dell'hotel, non aveva un gatto delle nevi. A Lanciano, concorso Sasi per 67 posti, 2000 domande. Prima di scendere in basso, saliamo in alto per vedere quella parte alta dell'edizione odierna del messaggero, ovviamente edizione abruzzese all'Aquila. Doni giù dal cielo con Babbo Natale che si lancia con il parapendio, un Babbo Natale spericolato. Val Vibrata, pasti caldi e pacchi, regalo ai più poveri. Peschiara in attesa del derby con Lascoli, l'ex Palladini punta su Mancuso. Vedremo se sarà decisivo Leonardo Mancuso che l'anno scorso era alla San Manentese quindi per lui di fatto è anche un derby se vogliamo la sfida con Lascoli. Di spalla l'artigianato chiede 7 milioni per il rilancio. Scendiamo in pagina perché anche qui c'è una splendida foto della Basilica di Collemaggio che torna a risplendere. Grande inaugurazione questa mattina, re-inaugurazione per la Basilica restaurata di Collemaggio con il ministro Franceschini. Bussi per la bonifica del sito bocciatura bis del Ministero. I rifiuti devono essere rimossi e non neutralizzati con il calore. E poi, notizia di cronaca, la operano paziente rimane senza denti. In basso il caso A Tua, licenziamento per molestie. Un autista lancianese di Tua, Sangritana, licenziato in tronco per presunte molestie sessuali su una passeggera sulla linea Lanciano-Ortona. Andiamo in provincia di Teramo adesso con la prima pagina del quotidiano La Città. Invalidità negata fa causa all'Inps. Malato di Slada al 2004, aspetta 13 anni per ottenere il rifiuto dell'assegno. E allora interviene la magistratura. La grande fotonotizia a Civitella, auto cappotta per colpa di una perdita del ruzzo. Il titolo è Ghiaccio di Fogna. Di Spala, Tortoreto e gli ammanchini Bonipasto risalgono almeno al 2012. Le parole del sindaco a Roseto, il superdirigente Scorrano invece lascia il comune. Sotto la fotonotizia, gli stabilimenti sono dello Stato. Il giudice dà torto al balneatore che ne rivendica la proprietà. In basso per il Teramo la questione stadio. Il gestore Cantagalli sbotta sullo stadio. Campitelli non dice la verità. Queste le prime pagine dei quotidiani di Casa Nostra. Andiamo sui quotidiani nazionali che vedete alle mie spalle. Partiamo ovviamente con il Corriere della Sera e con la questione relativa alle banche con le verità di Visco. Siamo sul Corriere della Sera e il richiamo di Mattarella. Legislatura finita. Dice il capo dello Stato andiamo al voto con serenità. Ma il governatore di Banca d'Italia dice Renzi Michese di Etruria non risposi nessuna pressione né da lui né da Boschi. Poi l'intervista a Piero Grasso che dice così riporterò a casa gli elettori del Movimento 5 Stelle. La simulazione, visto che siamo non molto distanti dalle elezioni, il centrodestra ora unito raggiunge quota 281 voti. La simulazione di voto ovviamente di Nando Pagnoncelli che poi troverete all'interno del quotidiano. Torniamo con la fotonotizia alle questioni che riguardano la Catalogna. Barcellona verso la scelta tra indipendentisti e unionisti. Da Rajoy a Ines tutti alla sfida catalana. Ines Arrimadas candidata alle elezioni catalane di domani che vedete raffigurata e anche con la sua vignetta alle spalle. Cambiamo giornale quotidiano. Andiamo sulla Repubblica, sulle colonne di Repubblica. Il titolo di fatto non cambia. Banca Etruria, la verità di Visco. Il governatore dice Renzi mi fece delle domande ma non risposi. E alla fine l'ex premier lo ringrazia. Mattarella, no alla campagna elettorale irresponsabile. Contratti a termine. Salta la riduzione. A centro pagina grande foto notizie che riguarda i due primi cittadini del Movimento 5 Stelle e i due grandi metropoli come Torino e Roma. Appendino e Raggi. La parabola delle stelle cadenti. Grilline. Insomma non se la passano molto bene i due primi cittadini evidentemente. Torino bocciata e fuga. Cultura addio. Virginia logora. Non mi ricandido. In basso a Como il coprifuoco di Natale. Vi è clochard dal centro vietato dargli latte e biscotti. E poi il governo tedesco. Il ministro Altmaier. Merkel resta leader. Solo lei può trovare una maggioranza. In Veneto la task force dei cani pastori che impedisce gli assalti dei lupi. Cambiamo quotidiano. Andiamo sulla stampa. Anche qui tregua sulle banche. Renzi e Visco frenati dal Quirinale. Manovra l'assalto finale dei partiti. No alla stretta sui contratti. A termine. Per l'ex premier il commento di Fabio Martini. Un pareggio a caro prezzo. E poi per le questioni ambientali. Così la plastica invade i laghi. Depuratori scadenti. Scarichi inquinanti. Cronaca di un'altra emergenza. E poi la notizia che abbiamo letto prima. A Como è vietato aiutare i senza tetto. Cacciati i volontari. Il comune multe e closciare il 24 dicembre. Manifestazione di protesta. E poi il sud Tirolo. Insomma spesso è molto più vicino all'Auster di quanto non sia almeno all'Italia. Almeno nelle intenzioni. Che invece però una parte evidentemente vuole pagare le tasse al governo centrale di Roma. Il fatto quotidiano invece la vede un po' in in un altro modo. Visco in Castrarenzi. Mi chiese di Etruria. Pensavo scherzasse. Non gli risposi. Neppure per il fatto quotidiano. E' un altro ceffone. La raggi dall'abisso ai primi risultati. Lascerò nel 2020. A centro pagina. Natale. Boom di cassi integrati. E meno tutele per i licenziati. Mentre l'utilizzo degli ammortizzatori sociali è stato reso più difficile dall'applicazione del Jobs Act. Fine legislatura. Mattarella elogia il Rosatellum. E il 28, dunque tra Natale e Cabodanno, scioglierà le camera in vista delle prossime elezioni. Il manifesto. Il solito gioco di parole molto interessante. L'oro di Arezzo. Il governatore Visco ironizza sugli orafi di Arezzo. Bacchetta Renzi. Mi chiese di Etruria. Non risposi. Insiste sulle ragioni del nostro declino in Europa. Il segretario PD che ieri ne chiedeva le dimissioni. Oggi fa buon viso e lo ringrazia. Ha chiarito. Noi siamo stati ineccepibili. In alto. La strage di Ustica. La testimonianza di un marinaio della porta aerei Saratoga. Ci fu uno scontro con aerei libici. Insomma, la strage di Ustica che nonostante siamo a distanza di 37 anni, il 27 giugno 1980, continua ancora a far discutere la ricerca di una verità che però purtroppo fino a questo momento evidentemente non è stata raggiunta. Il messaggero Visco Renzi. Tregua su Etruria. Il governatore di Banca Italia in commissione. L'ex premier mi chiese della banca. Ma non risposi. E su Boschi nessuna pressione da parte dell'allora ministra. Il segretario PD ringrazia. Dubbi fugati. scendiamo con lo sfogo del sindaco di Roma Raggi. Non me ricandido. È un successo se arrivo viva. Gli ostacoli della sindaca dai conti al processo. E adesso pensa al piano B. Poi una questione che ha interessato parecchio la città di Roma, soprattutto in vista del Natale. un albero di Natale non proprio indimenticabile. A Roma già soprannominato dai capitolini Spelacchio. Beffa Spelacchio non era gratis. Al comune è costato niente meno che 8 mila euro. E qui le due foto. Intanto c'è un esposto alla corte dei conti per il danno erariale. A sinistra, come era quando è stato prelevato, e a destra, come è adesso, è costato complessivamente 49 mila euro. Insomma, non proprio la migliore spesa che si potesse fare, considerando come ridotto, povero albero. E che trova sulle colonne del tempo la prima pagina con un manifesto funebre riposa in pace. I romani commossi piangono la prematura scomparsa di Spelacchio. Che figuraccia con l'albero di Natale. Muore ogni speranza per Roma. E la sindaca della capitale dà l'annuncio che non si ricandiderà più. E poi le due analisi. Preghiamo per te di Maurizio Battista, evidentemente, a questo povero albero. E di Gianmarco Chiocci. Se la scimmia di Banca Italia, viene definito visco, perché non vede, non sente e non parla. Il governatore in Commissione Banca assolve Renzi, la Boschi e soprattutto se stesso. I fallimenti sono colpa della crisi. Abbiamo vigilato. Non si poteva fare nulla. Nessuno però gli fa la domanda giusta. Se siete inutili, non è meglio chiudervi? La foto al centro placido mollato dall'attrice che lanciò a 17 anni. La giovane moglie lo scarica Michele Placido dicendogli Michele sei troppo vecchio. E poi il sondaggio che riguarda i giovani e l'Unione Europea di politico.eu. I giovani vogliono andarsene dall'Unione Europea. Sondaggio su chi fatto chiedendo l'opinione a chi nel 2018 voterà per la prima volta. Ed evidentemente i giovani non hanno proprio questa passione spiccata per l'Unione Europea. Cambiamo quotidiano. La verità, anche Renzi trescava su Banca Etruria. Anche qui il governatore di Banca Italia. L'allora premier mi chiese dell'istituto. Gli dissi che ne avrei parlato solo con il ministro dell'economia. E poi lo zio della Boschi e i suoi amici si sono fatti dare 25 milioni di euro e poi non li hanno più restituiti. A centro pagina, in carcere un minorenne su due stranieri. Indagine shock. Sono maschi in gran parte provenienti da Marocco e Romania ma sull'età c'è incertezza. In basso una questione che riguarda Gianfranco Fini e la sua epopea. Casa di Monte Carlo presa con i soldi rubati al fisco. Andiamo all'avvenire. Pensare all'Italia. Le parole del capo dello Stato. Mattarella. Il voto è vicino. I partiti siano realisti. Banca e visco scagiona la Boschi. Renzi chiese. Il capo dello Stato invita la serenità e a frenare l'attenzionismo dopo l'audizione del governatore di Banca Italia. Movimento 5 Stelle contro l'ex premier. Poi altre notizie perché il 17 marzo il Papa da Sampio e la misericordia sarà a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo. E poi la guerra. Andiamo in Riyadh. Missile su Riyadh. Escalation dallo Yemen. Andiamo sul secolo XIX. Banca e tregua. Renzi visco. Il governatore nega le pressioni. Renzi lo ringrazia. Il ruolo del Quirinale salta la stretta sui contratti a termine. Giro di vite sull'uso della plastica. Il mattino a Napoli c'è il terrore delle baby gang. L'amare del ragazzo al coltellato. Volevano ucciderlo solo per farsi forti con un boss. A lato. Voto. Mattarella richiama i partiti. Proposte realistiche contro l'astenzione. E poi invece per la Team Cup sfondato il bunker udinese di Massimo Oddo con Insigne e davvero un altro Napoli. Vittoria 1-0 per la formazione partenopea. Chiudiamo con le prime pagine nazionali con il sole 24 ore. Professionisti più tutele per l'eco compenso. Fintech ritenuta al 26%. Niente blitz sul Jobs Act. Nella PA. 50 euro a tutti per la manovra. Sale a tre anni il periodo per chiedere l'adeguamento. Visco su Banca Etruria. No sollecitazioni da Boschi. Renzi fece una domanda. Io però non risposi. Per il Creval sia l'aumento da 700 milioni ha votato a favore il 96% dei presenti in assemblea. Decisivi i piccoli azionisti. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Cominciamo ovviamente dalla Gazzetta dello Sport perché oggi si chiudono gli ottavi di Coppa Italia in campo la Juventus con un esame ovvero prove di gioia. Allegri la Juve in aiuto a Dybala su due fronti allo stadio alle 20.45. L'argentino titolare contro il Genoa cerca il rilancio dopo le panchine delle ultime settimane. In alto le milanesi. Icardi 17 bellezze. Quante reti come Meazza. Sabatini dal Via Libra. Inter ci rinforzeremo. Dall'altra parte Milan. Pronto c'è Kakà. Fassone può tornare dice. Ora la squadra capisca il valore del Milan. E poi di spalla riecco in signe ed è subito gol. Napoli ai quarti. Lorenzo entra e sblocca la partita. Mercato. Ciciretti al Napoli. Forse arriva già a gennaio. C'è anche un'idea d'Armian. Adalanta invece due. Col Sassuolo questo pomeriggio. Roma Emerson in vetrina. Toro Niang ci ritenta in basso. Altre questioni che riguardano il basket. Kobe. Re per una notte. Ritirate le due maglie. La 8 e la 24 appartenute proprio al Black Mamba. Kobe Bryant a Los Angeles. sci. Bella notizia. Melg presente. Abbonata al terzo posto. Ieri Emanuela Melg. E poi per il ciclismo la paternoster d'oro. Dice vivo sui social l'intervista alla paternoster. Corriere dello sport. Insigne c'è. E anche Ciciretti. Lorenzo entra e stende l'Udinese. Napoli ai quarti. In arrivo l'esterno del Benevento. Ex L'Aquila peraltro. Per chi insomma ha buona memoria. Amato Ciciretti. Ha giocato anche qui in Abruzzo. In alto. Viva il VAR. Rocchi applaude. L'Amo Viola in campo. Fatto un grandissimo passo in avanti. Gian Infantino che dice il sospetto è un male italiano. Rocchi peraltro che sarà il nostro arbitro ai mondiali a cui però purtroppo noi non parteciperemo. Oggi prove di Juve-Roma. Esame di bala. Allegri lo rilancia contro il Genoa. Cic c'entra avanti invece i giallorossi. Di Francesco sfida il Torino. Mondiali che tornano per la questione dei diritti tv perché Mediaset è vicinissima a prendere i mondiali di calcio del 2018. Poi le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti. Inter servono due acquisti. Manuela Morghi invece per lo scia. Ancora podio. È il terzo di fila nel Gigante. Chiudiamo con tutto sport. Di Bala torna al centro della Juve. Stasera contro il Genoa. L'argentino subito in campo. In alto per il Toro. Crocevia Mijalovic. Roma Toro. Granata in secondi quarti dove potrebbero trovare proprio la Juventus. In basso altre notizie. De Vrij-Lazio scende il gelo ma il Barça sfida. Suning per il centrale difensivo della Lazio. Milan-Irafassone umiliati a Verona. mai più. Con questa notizia noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso le previsioni del tempo pubblicità e poi rientriamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti per entrare all'interno dei nostri quotidiani. Ripartiamo con il quotidiano Il Centro. Sicurezza che è un tema molto sentito soprattutto nelle scuole. 49 milioni a 75 scuole d'Abruzzo. La regione rende noto l'elenco del finanziamento statale e qui trovate anche l'elenco proprio completo. Adesso non lo leggiamo tutto però come vedete sulla destra ci sono tante scuole. Anche tanti comuni e tanti centri abruzzesi che potranno evidentemente usufruire di questi fondi per sistemare le scuole e renderle più sicure perché poi in realtà di questo è la cosa più importante. In basso bussi e piano d'orta. Piani Edison bocciati. Il Ministero dell'Ambiente impone la bonifica vera. Terreni contaminati che debbono essere rimossi. Cambiamo pagina. A Rigopiano i dirigenti. Le decisioni toccavano alla politica. Parliamo ovviamente degli interrogatori. PM cercano di fare luce sulla mancata approvazione della carta dei pericoli da Valanghe. Caputi svela di aver inviato nel 2014 la richiesta di fondi alla presidenza della regione. E Belmaggio racconta dopo la tragedia di gennaio D'Alfonso mi chiese quanto occorreva per fare la CLPV e alla mia relazione seguì lo stanziamento. L'ex sindaco di Farindola De Vico e il PRG mai approvato. Nessuna omissione per l'hotel ma i gestori potevano dotarsi di un gatto delle nevi. Questi sono gli interrogatori che ritroviamo anche in apertura del messaggero. Vedete alle mie spalle la pagina. Rigopiano gli interrogatori. L'accusa di De Vico il gatto delle nevi più utile delle suite. Addirittura qui insomma le parole sono anche più se vogliamo crude. L'ex sindaco di Farindola punta il dito sulla proprietà dell'hotel. Sì al posto di Lacchetta avrei chiuso la strada. Il dirigente regionale Sabatino Belmaggio parla per quattro ore sulla carta Valanghe. Io decisivo dopo 25 anni. In basso la questione scuole. 49 milioni e mezzo per le scuole. L'opposizione. Soldi statali dicono le opposizioni. D'Alfonso non c'entra, non ha meriti. Ecco questo è il significato delle parole dell'opposizione. In basso Paolucci lo sport apre alla scuola occhi del consiglio regionale alle risorse. Iniziamo adesso ad andare sulla pagina di Pescara dove c'è il pasticcio degli uffici. Azzerata e riscritta la delibera sui rifiuti. Sbagliati i conti sulla Tari. Oggi in aula il sub emendamento con la versione corretta del piano finanziario e tariffario. Ancora 6 milioni fuori bilancio alla Sapro per collaudare il palazzo di giustizia e la conseguenza del contenzioso con il consorzio del nuovo tribunale. Azione risarcitoria con il ministero. In basso Unione dei Comuni per arrivare alla nuova Pescara l'assessore Stefano Civitarese indica un percorso rapido e concreto sull'esempio di altre iniziative. Ancora a Pescara Frati e Candelotti, le spine di Piazza San Francesco, la difficile convivenza con le attività caritatevoli del convento francescano, la presenza della mensa e la fontana mai amata dividono i commercianti. A Pescara ovviamente area metropolitana ma ci spostiamo di parecchio perché andiamo a bussi, bocciatura bis per la bonifica, il progetto della Edison respinto al ministero dell'ambiente che conferma la prescrizione. I rifiuti vanno rimossi interamente. La tecnica della neutralizzazione termica degli inquinanti proposta dall'azienda ammessa soltanto in via sperimentale. A centropagina operaio di Attiva cede alla disperazione. In basso apertura della diga e nuova soffolta da Ancona le ordinanze per i lavori. Prima di andare all'Aquila torniamo proprio sul centro perché andiamo sulla pagina abruzzese, ripartiamo con il bilancio, due blackout fermano il Consiglio regionale, l'escaldamento in tilt e il parere dei revisori che manca fanno slittare i lavori a oggi. Passa la legge sul trasporto pubblico. E poi la notizia che aveva avuto anche un richiamo in prima pagina, Sottanelli, molto abruzzo in Noi con l'Italia, il deputato di Roseto, anche con l'ex sindaco di Avezzano, di Pangrazio e altri amministratori. Qui è con Enrico Zanetti davanti al simbolo del nuovo partito in cui ci sono, vediamo, oltre a Sottanelli, Lupi, Romano, Zanetti, Tosi, Costa e Fitto. E a proposito di politica che si dà gli auguri di Buon Natale, Forza Italia 400 alla festa organizzata da Nazario Pagano, il popolo abruzzese del centrodestra si conta a cena e scopre che è raddoppiato. Due assenti giustificati, Chiodi e Pelino, ma tra gli ospiti, anche dei noti imprenditori. In basso il personaggio, Maria Vincenza, nonna d'Abruzzo a 108 anni, ha superato due guerre e tanti dolori. I familiari mangia solo prodotti dell'orto e non prende farmaci. Davvero complimenti ancora. Adesso andiamo proprio sulla pagina di Pescara. Il nuovo progetto, i campioni della palla nuoto per il rilancio delle naia, di anche Pomiglio e Destiarte, tra i promotori del piano per riqualificare la struttura. Invece, per quanto riguarda il circolo canottieri, arrivano i soldi. D'Alfonso rende noto lo stanziamento di 1.800.000 euro del Ministero per il recupero della struttura. dice, un'opera identitaria, asta di beneficenza per History Life con i campioni del Mondiale di Spagna 82, nella foto, Pablito Rossi. Andiamo avanti, è morto il leader dei precari di Attiva. Dolore e incredulità per la scomparsa di Mario Ferrone, 52 anni, funerali domani nella chiesa di San Gabriele. A Pescara, sempre, da gennaio in comune, 20 lavoratori in mobilità si occuperanno di verde, mercati, impianti sportivi ed edilizia residenziale. Il vice sindaco Blasioli, un'iniezione di energia per far fronte a maggiori carichi di lavoro. Scendiamo, questioni che riguardano la scuola, ma stavolta la sicurezza non c'entra niente. classico agitato, protestano anche i genitori. Nel Mirino, infatti, c'è la settimana corta, il contributo volontario di 80 euro. 160 studenti non entrano in classe. E poi le più belle foto d'Abruzzo saranno proiettate in Piazza Salotto, sabato, su Palazzo Arlecchino. Le immagini scattate da 54 professionisti. Le immagini della regione si alterneranno con le creazioni del videomapping. Andiamo a Via Lebovio. I commercianti si autotassano per le luminarie. Scendiamo in basso. La natività in scena nei cortili delle case. Villa del Fuoco. 200 persone al presepe itinerante. Voluto dal parroco con il gruppo scout. Pescara 8. 8. A Francavilla, Stadio del Mare, bando per la gestione entro fine anno. L'impianto sarà affidato per 5 anni. Prorogabili non sono previsti, corrispettivi a favore del comune. Di spalla, sempre a Francavilla, auditorium. Prima teatrale il prossimo 4 gennaio. San Giovanni Parrucci incalza il sindaco. Marinucci chiarisca la sua posizione. E poi, sempre di spalla, e sempre a San Giovanni Tiatino, Amianto, Alvia, le domande per le bonifiche. Montesilvano, Palazzi, Vista Mare, Cordoma. Da sindaco io avevo detto no. Si allarga la spaccatura nel centro-destra di Montesilvano sul provvedimento varato dall'amministrazione del sindaco attuale, Francesco Maragno. In basso i commercianti accendono le luci di Natale. I titolari dei negozi si autofinanziano, anche qui, dopo l'accordo tra confesercenti, ente camerale e il comune. sempre a Montesilvano, scuola civica di musica, festa per il ventennale. Stasera il concerto di Natale con mostra e annullo filatelico per celebrare in bellezza l'anniversario di scena l'orchestra del conservatorio. A Moscufo, comune da sei mesi senza segretario SOS della minoranza. e invece a Spoltore un presepe molto grande, evidentemente, perché con più di 150 figuranti si rinnova a Cavaticchi la magia della natività. Cambiamo pagina, andiamo nell'area Vestina, Pizzeria Via Veneto riapre a 11 mesi dalla tragedia. A Loreto, grande abbraccio di amici e parenti a Riccardo e Pier Giovanni, figli di Sebastiano e Nadia, rilanciano l'attività e annunciano un locale a penne. Di spalla a pianella, entro l'anno, i lavori sulla strada della cartiera. In basso a penne, Baldacchini alla memoria corta, il segretario Dem Vecchiotti, la caserma dei Vigili del Fuoco e un'opera nostra. Torniamo sulle colonne del messaggero per andare a L'Aquila. L'apertura, Babbo Natale scende dal cielo, tanti doni con il parapendio, voli dei figuranti con il deltaplano, lo show scenografico il 23 dicembre, tutta la montagna illuminata, ovunque, musiche, spettacoli e concerti. In basso, migranti, due centri di accoglienza non a norma. E invece il sindaco, un grande onore avere la Branchesi al GSSI, il sindaco ovviamente dell'Aquila. Pierluigi Biondi parla così di Marica Branchesi, ricercatrice e docente, tra le dieci persone più influenti dell'anno, ovviamente, dalla rivista Nature. Rimaniamo sempre all'Aquila perché Celestino finalmente torna a casa. Le sacre spoglie non hanno mai avuto pace, quelle di Celestino Quinto. Dal trafugamento nel 1327 al clamoroso e misterioso sequestro nell'88. Tante forzate assenze da Collemaggio del Papa Eremita, da quella negli anni 60 a quella del 2013 a San Giuseppe Artigiano. E adesso, dunque, con la reinaugurazione della Basilica di Collemaggio, evidentemente anche Celestino Quinto può tornare a casa. Dopo oltre 3.000 giorni la città ritrova il suo simbolo, la Basilica di Collemaggio. Dunque, oggi giornata molto importante all'Aquila. Ci spostiamo ad Avezzano di Pangrazio, Vara, Abruzzo al centro. Oggi Maxi Summit al Dei Marzi. A sorpresa l'ex sindaco riunisce i fedelissimi e non solo. Si va verso le politiche. Parola d'ordine. Rilanciare aree interne. Si parla di 10.000 adesioni. Basta con l'attacco alle nostre risorse da parte di Stato e Regione. A centropagina furto in villa. Aveva una pistola. Il test della sparatoria. Pesca a seroli. Case, affitti e truffe online. Forza e l'ordine richiamano alla prudenza. A Sulmona scuole. Sospeso da oggi. Il servizio Mensa. Prima di passare a Chieti, torniamo. Ci arriviamo attraverso le colonne. Ci arriveremo tra un po' attraverso le colonne anche del centro. Ma rimaniamo all'Aquila perché oggi riapre con le maggio. E questa è la notizia del giorno. Nel capoluogo. Cerimonia solenne con il ministro Franceschini. Tornano le spoglie di Celestino. Quinto. L'avvio della costruzione dell'abbazia. Risale al 1287 sull'allora Colle di Maio. Insomma, ci è voluto tempo per ritrovare e rivedere finalmente la Basilica al vecchio splendore. In basso. Sette anni all'usi. Deve tornare in carcere. L'ex senatore di Capistrello della Margherita era accusato di appropriazione in debita. Torniamo adesso. Adesso sì che possiamo andare a Chieti. Tornando indietro perché è un'emergenza quella a Chieti. Un albero su cinque è a rischio crollo dopo la strage di Piante senza manutenzione a causa del vento. Il Comune chiama un esperto per avviare i controlli. Polemica all'annunzio di Marco contro il Rettore. I debiti non sono del CUS. Questa è la polemica tra Sergio Caputi e Mario Di Marco. Torniamo a vedere a Chieti il Marruccino che si fa bello per il bicentenario. In arrivo nuovi infissi. Al via l'intervento di abbellimento della facciata del teatro. Anche i portoni saranno sostituiti per la festa dell'11 gennaio. Vediamo anche sulla maiella senza cannoni sparaneve. La maiella aspetta e spera che ci sia un po' di neve. Scendiamo a vedere quelli che sono anche dei buoni esempi. A Natale niente botti. A Natale è Capodanno. Chieti rivendica un primato di civiltà. In basso. Coraggio al turismo. Gli eroi civili premiati in prefettura. La cerimonia con il gruppo dei premiati che salvarono le persone da un sottopasso allagato. Andiamo a Lanciano adesso per parlare di trasporti. Tu ha licenza un autista per molestie. qui insomma i trasporti c'entrano relativamente. Accusato dalla vittima l'uomo nega i fatti e chiede il reintegro sul lavoro. Concorso alla Sasi. Il 28 la prova scritta. Rimaniamo a Lanciano. Arrivate 2000 domande per 67 posti. E poi c'è a Lanciano l'incubo di un piromane tre auto incendiate e allora sale ovviamente anche la paura. Scendiamo in basso. Il rientro della Salma del Re evoca le memorie sulla fuga. Perché ricorderete insomma avete sentito in questi giorni il rientro della Salma di Vittorio Emanuele che proprio da Ortona fuggì. Ed ecco la... ecco perché poi c'è stata la condanna e di fatto l'esilio. Questa è la lapide di Ortona e il ricordo della fuga del re d'Italia Vittorio Emanuele III dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943. E infatti in basso poi c'è, anche se ci spostiamo a basso, ampi e arci che dicono niente spazi pubblici a chi tradisce i principi repubblicani. Andiamo a Teramo. La operano e resta senza denti. Una maxi condanna per la ASL risarcita con 150 mila euro una donna a cui sono saltati tre incisivi e un canino. L'incidente accade mentre viene intubata prima di un intervento alle corde vocali. Davvero incredibile. La Corte dei Conti chiede 25 mila euro all'anestesista che l'ha presa in carico. Negligenza e imperizia. Serviva più attenzione. Poi lo shopping natalizio sul corso. Arrivano segnali di risveglio. I controlli dei NAS. Casa di riposo. Denunciato il titolare per la politica. Brucchi Gatti. Cena di Natale da sei barati in casa. E poi per la cronaca giudiziaria. Niente bancarotta fraudolenta. Assolti due amministratori. Andiamo adesso sulle colonne del centro rimanendo a Teramo perché negati i contributi a 70 famiglie sfollate. Hanno cambiato residenza per comodità senza sapere che l'ordinanza di Errani lo vieta. e allora adesso rischiano di perdere gli aiuti. Viene definita una ripresa difficile dopo le calamità. Ricorderete anche la frazione di Civitella Ponzano che praticamente venne soverchiata dalla frana. Ponzano. Bando per trovare i terreni dove ricostruire. Restiamo a Teramo per parlare della questione stadio. L'invito del gestore dello stadio Bonolis Cantagalli che dice Campitelli fai un'offerta seria. Parlando del Teramo è determinato a rilevare la gestione del Bonolis. Aveva detto. Altrimenti potrei mollare. Il costruttore replica. Non onori tutti gli impegni presi con me. Dubito della tua capacità economica. A centropagina il comitato sollecita i progetti per la CONA. Spostamento della centrale Enel. Nel recupero dell'ex fornace. Chiesto un incontro al commissario. Torniamo in provincia di Teramo ma con il messaggero Pittrice Morta. Ricordate la storia di Renata Rapposelli, il figlio al contrattacco. Simone denuncia due donne che lo hanno descritto come un violento durante una trasmissione televisiva. Intanto i carabinieri continuano a raccogliere testimonianze sul ritrovamento del cadavere della Rapposelli a Tolentino. Scendiamo. Canoni a Giulianova della concessione demaniale. Il Tar bene pubblico e non privato. Il gestore di uno stabilimento voleva riconosciuto il diritto di proprietà sulle opere a mare. In basso oltre 2.500 persone in Val Vibrata in stato di povertà, pasti caldi e pacchi dono alle famiglie. E ad Alba svaliggiata l'abitazione del gioielliere Cichetti. Andiamo adesso sul... rimaniamo in provincia di Teramo, andando a sfogliare la città, perché le vetrine dell'ex provveditorato ha sottosopra. L'imprenditore Tiziano Lattanzi affitterà gli spazi della provincia subito dopo le feste. E poi il palazzo della provincia e i giardini che danno sui tigli saranno intitolati all'ex presidente proprio della provincia, Ernino D'Agostino, scomparso qualche tempo fa. Invalidità negata. Rimaniamo a Teramo. Malato di Slava causa l'Inps. Il 2004 scopre la malattia degenerativa e 13 anni dopo la sua domanda di assegno viene rigettata. Ancora avanti. Via Longo, sempre a Teramo. Da Brucchi l'ultimo regalo al privato con il progetto Rosa Spina. Teramo perde 79,81 casi popolari per averne 15,17 ma ancora molto incerte. sempre a Teramo alla Zippili sbarca la robotica, un corso di potenziamento sul coning e stimolare l'attitudine alla risoluzione dei problemi pratici. Quasi 12 milioni per le scuole terramane di tutta quella parte che abbiamo visto essere stanziata per le scuole abruzzesi, 12 saranno per le scuole terramane, piano triennale per l'edilizia scolastica, 19 i comuni della provincia di Teramo che saranno coinvolti. Anche qui specchietto ovviamente però riguardante solo le scuole della provincia di Teramo. Andiamo avanti. Prato Selva allo studio, un piano di rilancio. D'Ignazio chiede di riaprire subito per la stagione invernale. Provincia già proiettata invece all'estate 2018, quella che verrà. Provincia, tassa turistica sdoganata in tutti i comuni. La regione ha concesso con una delibera il riconoscimento propedeutico per l'introduzione della gabella. L'annuncio dopo il sisma riapre al pubblico il museo di Campli. Ghiaccio a Civitella, incidente bis, stavolta per colpa di una fogna. Dopo il bus finito fuoristrada, un'auto si ribalta a causa della lastra creata dalla perdita di un tombino. Questo ghiaccio che evidentemente è venuto fuori da questo tombino del ruzzo che poi ha creato l'incidente. In basso omicidio di Alba il giudice nega il rito immediato per l'assassino Fitim Koldasci accusato di omicidio volontario per l'accoltellamento mortale del Rom Manuel Spinelli. Andiamo avanti a Tortoreto. Gli ammanchi sui buoni pasto sono cominciati almeno nel 2012. Il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, dà tutte le cifre sul nuovo caso nei conti pubblici. Adesso apriamo la pagina dello sport di casa nostra perché ci avviciniamo a rapidi passi ad Ascoli-Pescara. Domani sera il Pescara però perde i pezzi. Fornasier e Zampano sono KO, il difensore centrale rischia due mesi di stop. Solo una forte contusione per il terzino contro l'Ascoli del Duca dove Zeman ha sempre perso. Ci sarà spazio per Bovo e Coda al centro della difesa e proprio l'ex Torino Bovo al rientro dopo oltre un mese e mezzo di assenza tornerà titolare ovviamente a sinistra anche Mazzotta. Intanto però prosegue il gelo tra l'allenatore e il presidente Sebastiani che ieri è stato proclamato presidente di B futura della Lega B. In basso Mancuso crede nella svolta una vittoria ci farebbe decollare l'esterno offensivo e cappelluzzo ospiti di quelli del Delfino presenti Nobili, Epifani, Giampaolo e Pacchiarotti. Dall'altra parte in alto Serie C, Speranza, Teramo guarda al futuro con ottimismo. Coppa c'è il Francavilla, Montani ci salveremo oggi. Ci sarà alle 14.30 la sfida con il Monticelli per i giallorossi, sfida che praticamente si sarebbe in campionato o si sarebbe dovuta giocare domenica ma è stata rinviata per l'impraticabilità di Castel di Lama. Oggi le due squadre, guarda caso, si ritrovano sì ma non per recuperare quella partita ma perché era già previsto il loro incrocio in Coppa Italia. Intanto Fabio Montani, nuovo tecnico del San Nicolò, che dice sono entusiasta, la squadra può fare molto di più. Un in bocca al lupo a Fabio Montani che è stato nostro opinionista nella trasmissione Abruzzo del Pallone. Un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Calcio a 5 Supercoppa a Padova stasera l'eterna sfida tra Luparense e Pescara. In basso domani turno infrasettimanale in eccellenza. Chieti Spoltore si giocherà in notturna. Marino potrà andare in panchina per il mercato. Antenucci va all'amiternina. Tiro con l'arco. La Cioppa e Flaminio brillano al trofeo Scarenci. Allanciano la manifestazione che ha visto sfidarsi 123 arcieri. In assenza in evidenza anche Mattiucci, Spadano, D'Acunto, Corrente e Corradino. Scherma a Pescara, Santo Stefano, Picciani e D'Angelo all'open nazionale di Spada. Andiamo sullo sport, sulle colonne del messaggero. Palladini, Pescara, punta su Mancuso, il tecnico che l'ho avuto proprio alla San Benedettese, l'ex capitano che in dieci anni ha vissuto gioia e dolori con il Delfino e salta il bomber. Ricorda poi tanti derby con l'Ascoli. Io al Del Duca dice no, meglio di no, altrimenti scoppia una guerra. Ex pescarese, San Benedettese, insomma, non proprio la presenza più gradita del Duca di Ascoli, Ottavio Palladini, però se ne farà una ragione. Trasferte tabù per il Pescara. Serve la vittoria per curare i mal di pancia. In basso l'Aquila. Buone notizie. L'Aquila Calcio arrivano alcuni giovani e sul fronte societario si muove ben poco. Le prossime ore decisive per capire come proseguire. Cambiamo pagina. Speranza in calza. serve uno scatto. Il capitano del Teramo non è soddisfatto del giro in andata. Sicuramente avremmo potuto fare meglio. Abbiamo perso troppi punti. Vediamo anche in pagina in alto Sharks su di giri con Ogide e Carlino. La musica è cambiata. Ovviamente siamo in casa Roseto che guarda al futuro con la fondata speranza di raggiungere la salvezza, anche se adesso avrà due trasferte a Bologna e Treviso. Non proprio le trasferte più comode, però insomma ce la può fare. Ha dimostrato la squadra rosetana di potercela fare. Calcio 5. Pescara e Luparenza in paio alla Supercoppa. Starta alle 20.30 all'Arena di Padova. Diretta su Sport Italia. Di spalla il Pineto cede Battista. Il campo basso penalizzato di quattro punti per la questione vertenze. Andiamo a vedere. Chiudiamo con lo sport sul quotidiano la città per vedere quale è l'apertura che riguarda lo stadio di Teramo. Sullo stadio Campitelli dice cose non vere. Il gestore dell'impianto di Piano d'Accio replica al Parlone Biancorosso. Un Teramo che non è neppure puntuale nei pagamenti. Vediamo un po' rapidissimamente. Rapporti compromessi. Il Parlone del Teramo si rivolga alla società che gestisce l'impianto senza affermazioni mediatiche estemporanee. Il tempo dirà se questa proposta da parte del Teramo arriverà. Veramente con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il nostro TG6 per tutte le notizie dalla nostra regione. rassegna stampa che torna domani mattina alle ore 8 puntuale. È tutto. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.